Ciao amici, benvenuti nella Maremano Procesa del V, quindi siamo presso l'allevamento del Pastor Transumante, mi sono Dario Capogrosso e siamo qua semplicemente per darvi delle informazioni molto basilari, ultimamente mi è stato sempre più spesso chiesto se cani da guardiania di razze diverse possono vivere insieme, la risposta è molto semplice, sì, come vedete abbiamo il nostro greggio composto da una quarantina di capre e una quindicina di pecore protette da cani di età diverse e di razze diverse, vedete lui squalo, il capobranco, il boss della situazione, molto bravo ma comunque sia esattamente agile e forte come un cane, come un cane nella montagna e poi vedete dei pastori d'asile, in questo caso abbiamo dei cuccioloni e dei cuccioli in stalla e c'è Matilde di Viorevetere che non vedo, Matilde che ora arriverà, che fondamentalmente vive insieme ai pastori maremano-prozzese, quindi la risposta è assolutamente sì, non ci sono purismi nel mantenere cani da guardiania di razze medesime assieme, non è fondamentale, quello che è fondamentale è capire il loro e il branco del cane perché ovviamente i cani lavorano in team, lavorano in squadra, lì dove c'è una squadra ben compatta e ben assortita quindi composta da un maschio adulto o anche più maschi adulti delle volte oppure comunque da cani più giovani o delle femmine, il team lavora bene, a discapito di quello che fondamentalmente si dice oppure a dispetto di quello che si dice che cani da guardiania debbano lavorare razza per razza, no, queste sono assolutamente cose non vere, quindi ad esempio in questo caso loro convivono perché comunque si tratta di cani da guardiania con le stesse attitudini, non c'è bisogno che loro lavorino in maniera separata, però abbiamo sempre parlato del pastore maremano-bruzzese, in questo caso c'è squadra con cani iperaffidabile, bravissimo anche con l'uomo, ma mi si chiede sempre qual è la vera differenza, dipende dal contesto e dipende dal cane singolo, quello che posso assicurare è che il pastore della sila è assolutamente un cane che nei confronti dell'uomo veramente ha poca poca voglia di intervenire, quindi non lo vede come un nemico, quindi in alpeggio è diciamo un cane probabilmente più sicuro, c'è da dire che il pastore della sila pur essendo un cane agile per prevenire in qualche maniera l'attacco al lupo e per preservare il greggio in maniera più efficace, probabilmente avrebbe bisogno di un numero di effettivi di cani superiore. Il maremano-bruzzese riesce a coprire più territorio da solo, quindi un cane tendenzialmente più territoriale, quindi in questo caso abbiamo dei bellissimi soggetti di pastore della sila di colori differenti, avete dei cuccioli ovviamente di colori zebellino, di color miele che riprende un po' il colore dell'antica capra calabrese o della nicastrese o della nera in qualche caso che sarebbe la capra appunto rustica calabrese e vi faremo vedere anche come i cuccioli in questo caso crescono assieme al greggio, magari ci spostiamo, ci possiamo spostare in stalla a vedere un attimino i cuccioli, ecco qua abbiamo già un primo ospite, vieni qua bello, e i suoi fratelli Dora, vieni qua, vieni ora, vieni ora, vieni ora, vieni ora, vieni, venite, si sono nascosti qua al fresco Dora, figlia di un soggetto importantissimo, ora ha perso il pelo perché ovviamente in piena adattazione, piena estate, siamo ad agosto, ma sono cani totalmente affidabili con l'uomo quindi come vedete questa è una colorazione nerofocata che fondamentalmente piace proprio perché è tanto differente al mare marabruzzese, ma come vedremo in altri video possono essere colorazioni molto differenti e addirittura un bianco sporco che dallo standard non viene previsto ma comunque che geneticamente è presente ancora nella razza e che quindi probabilmente insomma può essere, potrà essere in futuro valutato come un'opzione, comunque possono esserci i pastori d'asila anche chiari, anche se non è il colore prevalente, anzi possiamo parlare in percentuale dell'1% insomma della popolazione quindi tiriamo fuori questo bel cucciolo e niente, quello che voglio far vedere è appunto che ok sono soggetti di diversa età, però ad esempio la taglia è veramente simile non sono estremamente più piccoli, è un cuccio di 4 mesi che nasce da una, lo è gufo cuccio di 4 mesi che nasce da una mamma veramente veramente piccola, matite e viure vetere sono cani veramente placidi con grande ossatura, dentature perfette e sono cani notevoli come vedete non hanno problemi a vivere in branco, sono cani estremamente socievoli che però al loro modo fanno una guardia veramente intensa nei confronti dei predatori o dei cinghiali o chi che sia, quindi spero che questo ricominciare a parlare di cani da guardiani italiani sia un là per vederci più spesso online e di ricreare questa community che un po' mi è mancata grazie, a presto, Dario Copocrosso a presto, Dario Copocrosso